Mancano pochi giorni per l'arrivo dei plichi e continuano le nostre interviste per la presentazione dei candidati. Oggi ci colleghiamo con Monaco di Baviera. Oggi abbiamo in collegamento da Monaco di Baviera il candidato per il Movimento 5 Stelle, Marcello Pilato. Salve e grazie per essere qui con noi su Complitaly News. Buongiorno e buongiorno anche ai telespettatori. Marcello, cosa l'ha spinta a candidarsi in questa tornata elettorale? Bene, da molto tempo che mi impegno in prima persona riguardo ai problemi degli italiani all'estero. In primo luogo perché sono io stesso figlio di emigranti negli anni 60 in Svizzera. Io appunto sono nato in Svizzera e quindi conosco bene le vicissime che ha passato per primo la mia famiglia e anche di tanti altri italiani nel corso degli ultimi 50 anni. E purtroppo devo dire che con vero dispiacere gli italiani all'estero sono stati sempre considerati dei cittadini di serie B. Le loro problematiche hanno sempre trovato poco posto nel dibattito politico o parlamentare e quando occorre varere un provvedimento che possa riguardarli, questo viene considerato quasi come un contentino. E poi ricordiamoci che gli italiani residenti all'estero, che sono regolarmente iscritti all'aere, sono quasi 6 milioni e poi non contiamo neanche quelli che invece per loro convenienza non lo hanno fatto e allora il numero potrebbe anche addirittura raddoppiare. Il motivo principale per la mia candidatura che mi ha motivato in questo arriva proprio da queste considerazioni, ovvero il fare in modo che gli italiani possano essere rappresentati da chi conosce bene le loro esigenze, e che conosce la loro storia, che conosce i loro problemi e che possa all'interno del Parlamento dare una voce che rappresenti i loro interessi, ovvero dargli anche delle concrete soluzioni ai loro problemi. Io sono attivista del movimento già dal 2010 e ho sempre seguito anche il blog di Beppe Grillo e poi da quando vivo in Germania mi sono impegnato anche in prima persona con i vari gruppi del Movimento 5 Stelle. Prima devo dire che ero a Berlino per sette anni, poi adesso da quasi otto qui a Monaco di Baviera. Ho avuto sempre modo di organizzare degli eventi che potessero far modo che gli ideali del movimento e le azioni del movimento venissero a conoscenza anche degli italiani all'estero, perché questo è il problema, chi sta all'estero e fare politica all'estero è un po' più difficile rispetto a chi invece lo può fare in Italia. E poi ho sempre abbracciato quelli che sono gli ideali del movimento e questo mi ha permesso anche di conoscere molte persone che altrettanto avevano le stesse idee, tante persone che soprattutto per vari problemi hanno dovuto lasciare il loro paese perché c'erano problemi per il lavoro, perché c'erano problemi che non gli permettevano di fare una vita decente in Italia e quindi sono emigrati all'estero. Il programma del Movimento 5 Stelle è ben definito, ce lo vuole riassumere brevemente? Il mio impegno sarà quello di passare il più tempo possibile nelle comunità degli italiani all'estero perché per sentire la loro voce bisogna essere presenti sul territorio, capire quali sono i loro problemi quotidiani, quali sono le esigenze, fargli sentire che al contrario di quanto dicevo prima non si sentano cittadini in un modo diverso rispetto a qualsiasi altro cittadino che vive in Italia. Dopodiché è chiaro che l'impegno dovrà tradursi in azioni concrete portando in Parlamento atti e provvedimenti che apportino un reale miglioramento alla vita degli italiani all'estero. Sto pensando per esempio a fare in modo che il disbrigo di molte pratiche burocratiche all'estero possano avere dei tempi meno lunghi rispetto a quelli attuali e anche attraverso una maggiore e definitiva digitalizzazione di quelli che sono i servizi consolari e che appunto questo possa dare modo ai cittadini che sono iscritti all'aere di per esempio anche avere nuovamente la tessera sanitaria, cosa che non hanno come iscritti all'aere, perché magari quando si trovano in caso di necessità e si trovano temporaneamente in Italia possano avere una copertura sanitaria come tutti gli altri italiani che residono in Italia. E questo poi è anche un diritto che è sancito dall'articolo 32 della Costituzione che appunto tutela la salute come un fondamentale diritto dell'individuo. È chiaro che questo non è che debba aggravare ulteriormente il bilancio del Servizio Sanitario Nazionale, perché per esempio nel nostro programma prevediamo appunto un contributo volontario che possa aggiungersi ai fondi del bilancio pubblico della sanità e garantisca una copertura totale delle spese sanitarie degli italiani che sono residenti all'estero e che si dovessero, come hai detto prima, trovare temporaneamente in Italia. Quali saranno gli incontri con la comunità nei prossimi giorni? Innanzitutto mi sto mettendo in contatto con tutti i comités che sono in giro per l'Europa perché come istituto di rappresentanza degli italiani all'estero dovrebbero informarli non soltanto di quelle che sono le modalità di voto ma anche di far conoscere i candidati e quindi mi sto anche interessando presso i vari consolati e i comités che ci sono anche in UK per poter fare in modo che si organizzino degli eventi che portino a conoscenza di quelli che sono i candidati e dei loro programmi innanzitutto. Lei ha detto che il suo impegno sarà quello di passare molto più tempo nelle comunità italiane ma non pensa sia il caso di farle anche durante la campagna elettorale per incontrarle e condividere le sue idee piuttosto che attraverso i comités? Sì, la mia è praticamente una questione logistica ovvero io mi trovo in Germania, nel sud della Germania e diciamo che il mio territorio di competenza è la Germania e ovviamente cerco soprattutto di essere presente su questo territorio e già infatti ho avuto modo di incontrare diverse persone in diversi luoghi tra l'altro poi dovrò anche organizzarmi per un'altra visita in Svizzera e temo che però, visto anche la campagna elettorale che è abbastanza corta perché sappiamo bene che gli italiani residenti all'estero riceveranno le schede per votare dal 7 di settembre quindi in meno di una settimana e poi il voto si dovrà espletare entro il 22 di settembre quindi anche da un punto di vista di tempistica credo che dal mio punto, almeno per me personalmente sarà difficile venire in Inghilterra come per gli altri, la invitiamo a condividere con noi un suo personale messaggio con i connazionali Allora, quello che mi sento di dire è che io vorrei rappresentare gli italiani all'estero come non è mai stato fatto finora cioè dare l'opportunità di eleggere un loro rappresentante che li ascolta e che porta loro delle soluzioni a problemi che non sono mai stati risolti e vorrei innanzitutto e mi preme fortemente ricordare e dire che tutti gli italiani hanno diritto a votare e che devono votare perché ricordiamoci che chi non vota lascia decidere gli altri che poi ovviamente gli altri riescono benissimo nel soddisfare le loro esigenze e solitamente a non mantenere le loro promesse fatte in campagna elettorale Quello che posso dire è che il Movimento 5 Stelle ha fatto un programma che tiene conto di tutte le vere esigenze degli italiani all'estero e come ho detto prima, per esempio si pensa di risolvere i problemi per quanto riguarda i servizi consolari per avere diritto a una burocrazia efficiente da uno Stato che si ritiene avanzato come l'Italia Ringraziamo il candidato Pilato per essere stato qui con noi su Complitaly News Io ringrazio voi per l'invito e auguro a tutti gli italiani all'estero in Inghilterra un buon voto Vi ricordiamo che in questi giorni dovreste ricevere il plico elettorale a casa qualora non succedesse vi invitiamo a richiedere il duplicato al Consolato grazie e alla prossima intervista Quando si vota? In Italia si vota domenica 25 settembre 2022 all'estero si vota prima gli elettori riceveranno le schede elettorali presso il proprio domicilio e dovranno restituirle all'ufficio consolare via posta entro le ore 16 locali del 22 settembre Chi può votare? Gli elettori iscritti all'aere o anche gli italiani temporaneamente all'estero Possono votare i cittadini che si trovano temporaneamente all'estero per almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche Lo stesso vale per i familiari conviventi all'estero Attenzione! In questo caso per ricevere il plico elettorale all'indirizzo estero deve essere presentata l'apposita domanda al Comune italiano di residenza entro il 24 agosto Come si vota? Gli elettori riceveranno al loro indirizzo il plico contenente il materiale elettorale e le istruzioni sulle modalità di voto Attenzione! Gli elettori che entro l'11 di settembre non avranno ancora ricevuto il plico elettorale potranno contattare il proprio ufficio consolare per ottenere il duplicato Il voto si svolge per corrispondenza Occorre rispedire al consolato prima possibile la scheda votata dentro la busta preaffancata nelle modalità indicate nel foglio illustrativo Le schede votate dovranno pervenire al consolato di riferimento entro e non oltre le ore 16 del giovedì 22 settembre Dopo le ore 16 i consolati si occuperanno di far recapitare in Italia tutto il materiale votato per lo scrutinio Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.esteri.it e sul sito della sede